Allora, mister Mattoni, peccato aver subito la rete nell'unica occasione che la formazione avversaria ha avuto nell'arco dei 96 minuti. Sappiamo che era una partita difficilissima, complicata, su un campo impossibile, un campo che a noi un po' ci penalizza, ma al di là di questo qui volevamo dar seguito alla vittoria di Trastevere, ci abbiamo provato fino alla fine. L'episodio sul giro ci ha girato contro il cannovantesimo che preso la traversa. Abbiamo concesso alcune situazioni troppo morbide e non possiamo noi fare questo qua. Per noi ogni gara, i ragazzi lo sanno, per noi è l'ultima partita e dobbiamo affrontarla in maniera magari a volte diversa perché hanno messo il cuore fino alla fine, ma abbiamo fatto tanti errori, tanti errori magari in alcune situazioni. Questo è anche figlio del momento, dello stress mentale che si vive, perché magari dopo domenica c'era un umore diverso, ma dopo magari l'avvisaglia, il gol, piombi di nuovo magari sul nero più fondo. Ecco mister, oramai praticamente al giro di Boa manca solamente la partita. Mercoledì si giocherà contro il Roma City, è una sorta di spareggio. Certo, per noi ogni gara ne sono rimaste 18, abbiamo tutto il desiderio di venire fuori, a testimonianza anche oggi della grande prova d'orgoglio, ripeto, contro una squadra spicolosa, fastidiosa. E fino alla fine... Soprattutto è una squadra che ha subito pochissime reti. Certo, si vede, si difende bene, si difende cattiva, si difende in maniera compatta e nonostante tutto abbiamo creato occasioni per fare gol. Niente, ci dispiace, siamo rammaricati perché concludiamo l'anno senza una vittoria in casa, ci tenevamo tantissimo a regalare una gioia a noi, ai tifosi, alla società. Non ci siamo riusciti ma continueremo a provarle in tutta maniera per venire fuori. Allora mister, tre punti importanti in un derby più che mai sentito. Sì, una bella partita maschia su un campo pesante dove praticamente a livello tecnico diciamo è un po' scemata e quindi c'è stato molto da battagliare, dico contro un Tolentino in grande forma. Un Tolentino che nelle ultime giornate sicuramente ha dimostrato di aver preso una marcia importante. Quindi noi lo sapevamo che oggi affrontavano una partita difficile e siamo molto contenti di averla affrontata nella maniera giusta. Ecco, non è stata indubbiamente una gara spettacolare ma l'occasione che ha avuto il Porto d'Ascoli era sfruttata appena e quindi i tre punti sono suoi. Sì, sì, era una partita che sapevamo poteva essere decida dagli episodi visto le condizioni del campo. Siamo stati bravi a portarci l'episodio dalla nostra parte e poi siamo stati bravi a reagire fino alla fine. Anche sull'ultimo episodio diciamo del Tolentino siamo stati pure fortunati, ce lo prendiamo e complimenti al Tolentino e bravi a noi. Comister, manca un turno al Giro di Boa, che impressione si è fatta di questo campionato? Molto difficile, campionato equilibrato, adesso non so i risultati degli altri, a parte il Pineto che ha staccato un po' le altre squadre e fanno punti tutti. Anche quelle sotto comunque le ultime la scorsa settimana hanno fatto punti, quindi penso che sarà equilibratissimo come la scorsa stagione.